Buonasera ragazzi! Abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio da Torino verso Palermo per vedere un po' quello che accade in questo lungo attraversamento dell'Italia. Viaggio della speranza. Viaggio della speranza. Speriamo di arrivare. Esatto. 1.500 chilometri, vediamo un po' cosa accade e come passare questo tempo perché sarà abbastanza impegnativo. Io so già come passeremo il tempo. Sì, come? Io guido e sto. Dai, non credo. Non credo, dai, sarò attivo e operativo in questo viaggio. Guarda, già cala, già. Siamo mosso. Perché siamo stanchi. Primo caffè. Sì, uno stanco. Sì, uno stanco, primo caffè via. Stancho. 23.45, si è ormai giunti dove? Quasi a Firenze. Quasi a Firenze. Quindi il viaggio procede e... Va bene. Tutto sommato va bene. Ovviamente dobbiamo passare questo tempo in qualche modo e non l'abbiamo trovato. Ha ha! Il problema è cosa dire. Bene. Un sorriso per i fa. Bene. Quindi va tutto bene. Un sorriso per i fa. Un saluto per i fa. Ecco. Ecco. Quindi va tutto bene. Come ammazzare il tempo in questo... Questa fase? Pringles. Vuoi Pringles? Pringles. Bene. Quindi va tutto bene. Buongiorno, sono le ore 5.56. Siamo ormai apprentati nella... Salerno, Reggio Calabria. Salerno, Reggio Calabria, prima volta di Alessia. Oh no, anche tu. Alessia quindi si è sparata tutta la notte e io accanto alle altre micchiate le ho trovato a compagnia. Beh, almeno la sono fresco, la stessa migliore. Mi piace alla faccia. Certo. C'è ancora la faccia. La faccia. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. E poi vengono a dire a noi che ci abbiamo la lebbia. Sono le ore 11 del giorno seguente. Siamo fermati a Gioia Tauro per mangiare e per fare qualcosa. Ci sono un pc che urge. Siamo paura a Giulia. Finalmente siamo giunti a Reggio. Era ieri sono le ore 11. Poi Davide è qui da me. E bene. Ciao. Vado a destra, a destra, a destra. Vai, vai, vai. 38 euro. Quindi ce l'abbiamo fatta adesso. Ho visto? Non lo facciamo. Realmente siamo giunti e ora facciamo la strada per arrivare al paderno. Sono le ore 17 e 30. Siamo arrivati finalmente a Palermo. Abbiamo fatto 1.621 km. Alessia è in decisione. con il più importante. Iscriviti in Juan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.